Il Consiglio Comunale di Grosseto in un libro, il punto di metà mandato. Si intitola Il Consiglio in Comune, il volume che attraverso parole e immagini racconta i primi due anni e mezzo del mandato del Presidente Fausto Turbanti e di tutti i consiglieri dal 26 ottobre 2021, momento dell'insediamento, al 30 giugno 2024. Nasce per valorizzare il lavoro che viene fatto a un Consiglio Comunale. Troppo spesso il lavoro si pensa che venga fatto per quale parte esecutiva dal Signore e dalla Giunta ma c'è un grande lavoro perché gli atti importanti, quelli principali come i bilanci, le variazioni urbanistiche passano tutti i regolamenti, passano dal Consiglio Comunale e tutti i consiglieri vengono chiamati a votarli ovviamente come da regolamento e questo è un lavoro per rendere loro merito e dare visibilità a quella che secondo me è giusta per tutti i consiglieri sia di opposizione che di maggioranza. Si trova tutta l'attività che è stata svolta in questi due anni e mezzo, quasi tre per esattezza ma si trova tutte le cose che vengono fatte fuori, diciamo, che non erano state mai fatte tipo il Consiglio Comunale Alcemivet, tutte le civiche benemerenze, tutte le attività appunto che facciamo sempre che non sono ordinarie ma sono secondo noi straordinarie e le vogliamo pubblicizzare. La bella storia, la valorizzazione della donazione del sangue, tutte iniziative che, ripeto, non vengono fatte solitamente dal Consiglio Comunale e tutto questo però è un lavoro fatto con grande impegno e dedizione e lo vogliamo mettere a disposizione di tutti i cittadini.